Nulla da fare per il portiere, c'è un gol bellissimo! Ha staccato bene la messa dentro di testa, certo che se gli lasci quello spazio in area di rigore non puoi aspettarti che non ti punisca. Il gol pazzesco! Mamma mia che gol! E siamo sul 3-1! Non aveva molte possibilità, nessuno aveva accompagnato l'azione, quindi ci ha pensato da solo. E non sbaglia, è arrivato subito il gol! Già dall'ingresso in campo si vedeva che sarebbero stati capaci di iniziare così. Il portiere non ci è andato nemmeno vicino, veramente un ottimo rigore. Straordinaria! Non ci credo! 3-1! Sembrava un'azione un po' fine a se stessa, nessuno in area a cui passarla, invece ha imbroccato un gran gol dalla distanza. E c'è il gol! L'ha messa nell'angolino con grande precisione, questa ragazzi non l'avrei parata neanche io. La linea! C'è il gol! Con questo gol riaprono la possibilità in qualche modo. Gol fantastico, dribbling, tiro, tutto da manuale. Che gol! A un certo punto pensavo che volesse addirittura tornare indietro per driblarli di nuovo. Lavoro dalla distanza! Non ci credo! 1-0! Nessuno dei suoi compagni era smarcato, quindi ci ha pensato lui. Non ci sarete! Non ci sarete! La reazione imbegliata! Secondo me gli avversari si sono un po' rilassati dopo il vantaggio. In mancanza di compagni meglio piazzati ha deciso di provarci da fuori e ha trovato un grandissimo gol. Arbitro forse poteva anche starci un cartellino. Qui ha mancato completamente il pallone. Grande opportunità adesso per aumentare il vantaggio e forse chiudere la gara. È stata deviata dal portiere. Un altro tiro. Palla dentro! C'è il gol! 3-1! Sarà anche stata una conclusione imprevedibile. Ma era... Che gol straordinario! Mamma mia che gol! E' stato il gol! 3-1! La messa proprio all'angolino destro. Il portiere non ha avuto scampo. 3-1! 3-1! 3-1! Grazie a tutti